Sadhguru, all'inizio, oggi hai detto che l'umano è quello in cui la sorgente della creazione ha una maggiore presenza. Perché deve essere così? È semplicemente un inganno della natura? Un inganno esistenziale? Un gioco in cui siamo tutti? Solo un certo tipo di programma progettato per l'autodistruzione con alcuni sistemi di supporto? Perché alcune persone hanno un forte desiderio e altre no? E perché alcune persone con un forte desiderio trovano il posto giusto o le vie giuste per soddisfarlo? Qual è il segreto dietro tutto ciò? Per la prima parte della domanda, perché chiedi a me, non ho creato io questo dannato posto? Cerco solo di creare una soluzione. Non ho creato io il problema. Quindi, tutto questo è solo un inganno affinché le persone, le persone spirituali, gestiscano i propri affari? Hanno un qualche tipo di accordo con il Creatore affinché mantenga le persone in un tumulto tale che queste persone possano portare avanti il loro spettacolo? Possibile. E' solo che lo chiedi con una certa angoscia connessa. Allora cerco solo di giocarci un po'. Conosci il gioco del gatto e del topo? Dicono ciò che significa è per il topo è una questione di vita o di morte. Per il gatto è un gioco. quindi tutto dipende da quale sei. Quindi perché tutta questa cosa è fatta così? è una specie di cospirazione tra questi guru spirituali e il Creatore? No. È tutta cospirazione dall'altra parte. Stiamo cercando di sconfiggere la cospirazione. non abbiamo un accordo con il cospiratore ma ci abbiamo fatto amicizia. ora che ci abbiamo fatto amicizia possiamo fargli aprire la porta o abbiamo trovato le chiavi da soli. Anche senza il suo permesso abbiamo iniziato ad aprire la porta ultimamente. Ora perché in una persona c'è un forte desiderio e in un'altra persona no? Non esiste una cosa simile. In tutti c'è un forte desiderio. In tutti c'è un forte desiderio di essere un po' di più di ciò che siamo ora. Non è così? In tutti c'è un desiderio simile che è un desiderio spirituale. È solo che la maggioranza delle persone non lo riconosce come tale finché una certa dose di dolore o sofferenza o vecchiaia o la costante minaccia della morte entra nella loro vita fino ad allora non riconosceranno quel desiderio per quel che è. Continueranno a dipingere ogni tipo di immagine. Usando quel desiderio dipingono un milione di immagini diverse ogni giorno. Pensano si tratti di soldi. Vogliono ingannare se stessi pensando si tratti di un uomo o una donna. Sanno benissimo che non è così. Ma a loro piace far continuare il gioco continuare il gioco continuare il gioco per sempre. Pensano si tratti solo di una casa nuova. Pensano si tratti di un nuovo lavoro. Pensano si tratti di una promozione. Pensano si tratti di ricchezza. Non che lo pensino davvero. Semplicemente a loro piace giocare a questo gioco. Tutti sanno che nessuna di queste cose li soddisferà. Lo sanno molto bene, non è vero? ma continuano comunque a giocare il gioco. Il gioco è così difficile perché la situazione è così. Shankaran Pillai e sua moglie dormivano. Di notte la moglie credette di sentire dei rumori al pieno di sotto. Pensava ci fosse un ladro e disse «Ehi, sei sveglio?» Shankaran Pillai disse «No». E' per questo che non puoi svegliarli. Capisci? Se dormono davvero è molto facile svegliarli. Delicatamente puoi svegliarli con un bacio se sono persone delicate. Oppure puoi usare acqua ghiacciata, un secchio di acqua ghiacciata e svegliarli. Ma il problema è che sono svegli e fingono di dormire. Adesso devi convincerli a non fingere. sai che è difficile. Sai che è difficile. Ecco perché sembra così difficile. Non peraltro. Se le persone dormissero davvero sarebbe molto facile risvegliarle. Sono sveglie ma fingono di essere addormentate. Ora se tu vedi un uomo che finge di dormire se lo giri dormirà da questa parte. Lo fai sedere dormirà da seduto. Lo fai alzare dormirà in piedi. Quando è determinato a non svegliarsi allora ci vuole molto lavoro. Questo è il lavoro insensato che stiamo facendo in nome della spiritualità. Svegliare delle persone che sono già sveglie ma a cui piace fingere di essere addormentate. Altrimenti perché questo continuo ancora e ancora un satsang è sufficiente non è vero? Un solo satsang è sufficiente. Perché un altro un altro un altro perché con un satsang li giri così poi dormono da questa parte. Nel satsang successivo ok non ha funzionato li giri così dormiranno in quella posizione. In ogni nuova posizione dormiranno. quindi non li lasci sedere in nessuna posizione continui a muoverli 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 fino a un punto di frustrazione in cui si alzeranno ok questo dannato uomo non mi lascerà dormire comunque che diamine tanto vale svegliarmi. Questo è il modo in cui gli stupidi si sveglieranno. Ma gli intelligenti dovrebbero svegliarsi nel momento in cui sanno di essere svegli devono aprire gli occhi e vedere coloro che sono affamati di vita coloro che non vedono l'ora che il giorno inizi nel momento in cui sono svegli si alzeranno ed usciranno coloro che non aspettano il nuovo giorno se il sole sorge vogliono negarlo con la coperta non è vero? ecco perché i processi spirituali sono progettati così che ti piaccia o no alle 5 del mattino ti alzi e doccia fredda ti siedi e fai tutto ciò che devi fare no non mi piace non mi piace non importa se non ti piace lo fai e basta dormi non importa cammini lo stesso e fai tutto se fai questo per un po' allora realizzerai che senso ha fingere comunque mi faranno fare tutte queste cose allora non varrà la pena di fingere stai creando tutta una serie di illusioni per te stesso la vita dovrebbe disilluderti da qualche parte lo farà prima lo fa è bene se la vita non lo fa un guru cercherà di accelerare il processo di disillusione non interpretare la disillusione come un processo negativo disilludere significa distruggere le tue illusioni giusto? se vieni disilluso è una cosa positiva o una cosa negativa? ma questo è tutto il problema con la vita non è vero? se i tuoi sogni si infrangono e scendi nella realtà è in quel momento che lotti e soffri di più non è così? sì? non è così? se tutto ciò che era illusione si sfascia e ti fa atterrare nella realtà devi essere felice ma accade proprio il contrario perché sei sveglio e addormentato questo è il problema se fossi addormentato non ci sarebbe nessun problema se sei completamente sveglio è assolutamente meraviglioso sei sveglio ma fai finta di dormire questo è un problema serio è un problema è un problema che è un problema